In una terra molto, molto lontana, una persona speciale è in viaggio. Chi può essere? Sì, esatto, è Babbo Natale! Matilde, che vista! Ciao! Oh, penso che sia meglio che torni a casa a cucinare qualcosa. Questo è il mio aiutante, Waffle. Seguimi, Waffle. Vieni, amico mio, perché ho molta fame. Matilde, prepariamo qualcosa. Burro, hop! Cos'altro abbiamo qui? Oh, qualcuno ha un debole per i dolci, eh? Che cos'è? Oh, il nuovo numero di Santa News. Matilde. Oh, cos'è questo? È un articolo su di te sul nostro giornale. E la tua foto è in prima pagina. Incredibile! Vediamo cosa scrivono su di te. Oh, sì. So che sei una bellissima bambina. Ed ecco una tua foto. Che bambina allegra e simpatica. Hanno scritto anche questo. Fai un po' di capricci. È vero? Ti impegnerai? Penso di sì. Ok, finiamo di cucinare. Metto su un po' di musica e... Torno al lavoro. Guarda come si fa, amico mio. E hoppa! Aggiungiamo altro condimento. Agli elfi piace. Chi è il migliore? Ah, le stelle. Sono le mie preferite. E subito in forno. Vado a controllare cos'altro hanno scritto su Santa News. Qualcosa su di me? Vediamo. Oh, hanno annunciato i vincitori del concorso. Sappiamo chi ti ama di più. Li riconosci? Amata. E... Genitori. Oh, ti amano così tanto. Ricordati di abbracciarli dopo questo video e di dire loro che li ami anche tu. Va bene. Andiamo in soggiorno e vediamo cos'altro c'è su di te sul mio libro. Prendo solo la mia deliziosa cioccolata calda e andiamo. Aspetta un secondo. Fammi trovare il libro sul nostro ospite. Dove si trova il libro sul nostro ospite? E' da qualche parte. E' quello che sto cercando. Vediamo. Oh, queste sono le mie foto da bambino. Che bei ricordi. Forse un'altra volta. Matilde. Nessun problema. So cosa fare. Questa è la mia biblioteca. Dove ognuno ha il suo libro. Scopriamo il tuo. Chissà cosa abbiamo qui su di te. Matilde. Hai già due anni. Ho sentito che ti piace andare in piscina. Penso che sia meraviglioso che tu abbia imparato ad andare in bicicletta. So anche che ti piace andare all'asilo. Ecco una raccomandazione per te. Sì, una brava bambina. Ok. Ora vediamo. Sei sulla lista dei bambini buoni? Eccellente. Vedo la tua foto. E che significa che sei sulla lista dei bambini buoni? Oh, congratulazioni. Sono molto felice. Il tuo regalo è un segreto. Gli elfi vogliono sorprenderti. Sono curioso anch'io. Ma sono sicuro che sarai felice. Vediamo cos'altro. Possiamo conoscere su... Oh, cos'è quel fumo? Non dirmi che sono i miei biscotti di pan di zenzero. Forse non è tutto perduto. Vediamo. Oh, ai 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 ai. Che cosa ho fatto? Non sono sicuro che possiamo mangiarli. Penso di non essere un buon pasticcere, dopo tutto. Quindi farò quello che so fare meglio. Consegnare regali. Sì, sì. Va bene. È ora di andare. Siete pronti, miei cari elfi? Perfetto. E ora partiamo con la mia slitta. Va bene, è ora di fare il giro del mondo. Tutti i regali sono impacchettati. L'unica cosa che manca sono le provviste. Matilde, hai visto per caso il mio barattolo di biscotti? Ah, giusto. Credo di averlo visto scomparire dal tavolo. Ok, devo controllare dove consegnare i regali. Mmm, vediamo. Vediamo un po', vediamo un po'. Oh, qui è dove vivi? Passerò sicuramente da casa tua. Andiamo. A tutta velocità. Rudolf! Oh, ciao! Ciao! Matilde, va bene. Penso che sia tutto. Ah, oh no! Ho dimenticato il tuo regalo. Oh, calma, calma, uridea. Vediamo un po'. Oh, bene, bene. Tutti i regali mancanti vengono da me. Alla là. Veloce e presto. Va bene, va bene. Penso che ci sia tutto. Perfetto, i regali sono tutti sulla slitta. Ma ho voglia di biscotti. Oh, chi è? Un intruso? Oh, fantastico. Sono salvo. Oh, oh, buon Natale. Ciao, ciao. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale! Buon Natale. Buon Natale. Grazie a tutti